Carissimi amici, carissime amiche di Salvo 5.0, vorrei che voi guardaste con attenzione un video relativo a un'intervista che è avvenuta ieri su Agora da parte di Gerardo Greco al cosiddetto professor Monti. Vorrei che guardaste con molta attenzione e ascoltaste con molta attenzione le parole usate da Monti e poi vi dico qual è la mia opinione in proposito. Noi vogliamo aiutare Renzi a correre, questo è molto importante e vorremmo aiutarlo a correre senza andare a sbattere e senza che non rendendosene conto magari corra all'indietro. Ecco, noi vorremmo aiutare Renzi a correre, senza che vada a sbattere e che magari senza rendersene conto inizi a correre all'indietro. Forse non serve aggiungere nessun commento, ma io lo faccio invece. A me queste sembrano le parole di un'intimidazione in stile quasi, diciamo, pseudo-mafioso. Manca solo la frase sappiamo dove vanno a scuola i tuoi figli. In effetti non è così, è ovvio. Quello che fa il cosiddetto professor Monti, in effetti, diciamo, facente parte del club Bilderberg, della commissione trilaterale, della Goldman Sachs, ecco, il messaggio è caro Renzi, tu non capisci niente, sei un emerito coglione. Tanto è vero che potresti andare a sbattere o addirittura metterti a correre al contrario, cioè fare il contrario di quello che noi, cioè io, Monti dice, Draghi, eccetera, vogliamo. Ecco. E quindi devi fare attenzione a fare quello che ti diciamo noi, per esempio il titolo quinto, quello che noi sono Draghi, Varrompui, Barroso, Rothschild, Rockefeller, eccetera. E stai attento a non correre all'indietro, cioè gli ordini sono questi. A me viene da pensare veramente a una catena di ristoranti in franchising. Potrebbero chiamarsi per esempio Mac Rockefeller, oppure, che ne so, Barger Rothschild, in cui Renzi è uno dei camerieri che serve ai tavoli. Monti è il capo cameriere, Napolitano diciamo che è l'amministratore protempore della filiale italiana, e i capi sono ovviamente Rockefeller e Rothschild. Ecco, questa è l'impressione che ho io ascoltando queste cose. Cioè il capo cameriere intima al cameriere quello che serve ai tavoli cosa e come deve fare, perché lui è talmente cretino da non essere in grado di capire in che direzione andare. Non aggiungo altro, mi piacerebbe capire attraverso i vostri commenti a questo video qual è la vostra opinione. Ciao a tutti!